Allora, apriamo questo nostro incontro con gli igrizi di saluto e quindi chiedo all'ingegnere Giovanni Mancino che è vicepresidente. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui presenti a partire dal tavolo dei privatori. Io porto i saluti chiaramente del Presidente Zinzi che è impregnato in altri incontri di Nassone e lo sviluppo del nostro territorio, cioè nell'osservanza della legalità, della sicurezza e della stazione comunale della città di Casetta, del Presidente del Consiglio Comunale e la testimonianza dell'orgoglio a qualche tempo fa, perché il tema è stato talmente tante volte affrontato anche nelle scuole, grazie alle emotive presenze del Procuratore Lembo che ringrazio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.